Per un nuovo talent televisivo, la vittima dovrà elogiare le caratteristiche degli strani prodotti che gli verranno forniti dalla produzione. Tra sex toys con forme stravaganti, oggetti di plastica senza senso e magliette con scritte politicamente scorrette, la vittima dovrà dimostrare di saperli vendere, anche nelle situazioni più improbabili. Guarda con chi si fumera entra, non saluta neanche già a casa sua, ma il tute è arrivato. Sono mio malgrado, il Freddie Mercury di una tribute band dei Queen. Un mese tra l'altro. Con luce perfetta. Non ci assomiglia per niente. È identico. Come i pesci. Identici. Beh, anche comico. Riti ancora, riti ancora. Vai ad abbracciarlo, vai ad abbracciarlo. Identici come no, vanno a abbracciarlo. Sono infetto. Io avevo preparato il monologo. È un monologo di film The Wolf of Wall Street. E puoi ripetere il titolo che non ho capito? Ho capito. Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street è il film di Leonardo DiCaprio. Magari prendo qualcosa come microfono, lo so. La pizza. Prego. Vedete quale scatole piccole e nere? Si chiamano i telefoni. Ok, applauso, applauso. Bravo, molto bravissimo. Adesso, quando te lo chiederò, tu sceglierai un oggetto e dovrai dimostrarmi quanto sei bravo a venderlo. Vai, vendimelo. Io sto passando. Dimmi che cos'è. Pezzo di pizza. No. E continua il casting con due pezzi di fazzoletto nel naso. Mi devi vendere questo oggetto. Tu tieni conto che arriva una persona. Fausto Leali Ubriaco. Ti capita una sera a Sanremo di incrociare Fausto Leali. Perché fai quella faccia? Leali. Leali. E poi devi kommerciare, lirighti Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah. Fai ad avere l'accello di nuovo, poi te ne vai come hai fatta prima. Aaaah Spero al campione. Una maglia, vai. Vai! Allora, vorrei vend... Assi dove è candida, vicino barcellona. Gente, venite, guardate che maglietta Una maglietta che ha indossato un calciatore famoso Perché per lei è andato con una prostituta Sapete chi è? Sapete? Non lo so È Cristiano Ronaldo Guardate, siete mai andati a Candida? Guarda, è un bel posto E dovete comprare questa per andare fino lì Famosissima per i funghi Dieci secondi in quella camera Dimmi quello che vuoi, convincici, canta, balla Dopo due secondi interrompilo e basta Ciao, sono Emanuele Va bene Emanuele, grazie È lui